Faceva decurtare i punti dalle patenti di ignare persone fino all'azzeramento e al ritiro del documento di guida e quanto scoperto dal nucleo di polizia giudiziaria della Polizia Municipale di Capaccio Pestum, coordinato dal tenente Sofia Strafella. La sezione di polizia giudiziaria ha eseguito numerose perquisizioni, delegate dalla locale procura della Repubblica, che si sono estese da Capaccio Pestum all'agro Nocerino Sarnese. Durante tale attività è stata individuata una donna ritenuta responsabile del reato di sostituzione di persona. L'indagine, avviata dalla Polizia Locale nel marzo 2018 a seguito di una denuncia, ha riguardato una serie di truffe legate alla decurtazione dei punti patente, ai danni di ignare persone che si vedevano dimezzare i punti delle patenti fino all'azzeramento con il conseguente ritiro della stessa. L'indagato, stando a quanto rilevato dagli inquirenti, trasmetteva i dati patente appartenenti ad altre persone, evitando così la decurtazione della propria. Nel corso delle perquisizioni, condotte con l'ausilio della stazione dei carabinieri di Capaccio Scalo e della tenenza di Pagani, è stato rinvenuto e sottoposto a sequestro il materiale utilizzato per commettere il reato.